Cari concittadini, l'11 giugno non dovete avere nessun dubbio. Vi chiedo con il cuore di dare speranza a questa comunità, di votarmi, di darmi una possibilità per cambiare questo paese. Con il cuore vi dico, votate Danilo Parasole, sindaco e i candidati della mia lista, perché abbiamo le carte regola per governare un comune che per cinque anni è stato assente. Grazie di cuore a tutti voi.